Quando parlo di banaleggiamenti non mi riferisco ai titoli dei miei video, ma piuttosto a certe stranezze che facevo quando ero più giovane, che facevano soffrire mia madre. Di questo mi dispiace molto. A lei vorrei dedicare un pezzo con una chitarra elettrica, sperando che da lassù mi perdoni. Grazie a tutti. Grazie a tutti.